Benvenuti, questa è House of Esports. ...della pubblicità, i grandi campioni di Starcraft 2. Una volta alla settimana, gioco abbastanza casual, però gioco. ...della preparazione con un mental coach, avremo tante domande curiose. Cosplayer mi fa impazzire, devo dire la verità. ...della preparazione con un mental coach, avremo tante domande curiose. Cosplayer mi fa impazzire, devo dire la verità. ...quì a House of Esports. Oh, mi raccomando, non andate via, restate lì, perché c'è il gran finale, fuochi d'artificio, tutto, restate lì, ciao, restate lì, lì. Arriviamo, arriviamo.